Giorno 588. Oggi le notizie più importanti vengono da sud. Qui le forze ucraine hanno condotto un'operazione anfibia in Crimea sotto la copertura di missili e droni. Fonti russe riportano che quasi alla mezzanotte le forze ucraine hanno lanciato un attacco marittimo con tre moto d'acqua e una barca in direzione di capo Tarkankut. Riportano inoltre che le guardie di confine hanno individuato quattro imbarcazioni, ucciso almeno un soldato e costretto gli ucraine alla ritirata, che sono stati prontamente inseguiti da un cacciaget Su-30 fino alle piattaforme petrolifere. Più tardi i combattenti ucraine dei distaccamenti speciali dell'intelligence hanno rilasciato video che mostravano il successo dell'operazione. Nelle immagini si possono notare sei moto d'acqua e non tre come riportate dai russi. Il portavoce dell'intelligence Andriy Yusov ha dichiarato che gli ucraine avevano iniziato pesanti scontri con le forze di terra russe e dopo aver inflitto e subito perdite si erano ritirati velocemente. Successivamente le fonti russe si sono corrette e dichiarato che i russi erano solamente riusciti a catturare un soldato ucraineo che era caduto da un'imbarcazione. Quindi, basandosi sui rapporti di entrambi i fronti e sulle prove visive, si può concludere che i russi non si siano accorti dell'attacco, gli ucrainei siano riusciti a sbarcare vicino alla base russa e ad aprire il fuoco e che una volta svegliatisi i russi abbiano posto resistenza. Quando sono finalmente arrivati alla costa hanno notato solo tre moto d'acqua rimanenti e trovato il soldato ucraineo che era caduto dall'imbarcazione. Nel frattempo gli ucrainei conducevano attacchi missilistici e dronici sulla penisola. Fonti russe riportano che gli ucraini hanno colpito Sebastopoli con missile Neptune e Izenierna con i droni. La ragione per la quale l'operazione di sbarco è stata accompagnata da questi attacchi era duplice. Gli ucraini avevano bisogno di una distrazione e per evitare che i russi potessero usare l'aviazione, che è la nemisi delle loro imbarcazioni. Anche se la scala dei bombardamenti si è rivelata piuttosto piccola, gli operatori di controaerea russi si aspettavano ulteriori attacchi ed erano pronti ad abbattere tutto ciò che volava. Essendo oramai noti per la loro propensione ad abbattere i propri velivoli, durante gli attacchi l'aviazione russa rimane a terra, e ciò era quello di cui gli ucraini avevano bisogno. Prima che i russi si accorgessero di cosa stesse succedendo e mandassero i jetta a inseguire le moto d'acqua, gli ucraini erano già a metà strada verso le piattaforme petrolifere dove hanno trovato rifugio. Grazie ai due mesi di continue operazioni anfibie, infatti, gli ucraini sono riusciti a stabilire controllo su quelle piattaforme vicine alla Crimea. Questo ha permesso loro di costringere flotta e aviazione russe lontane dal Mar Nero, di avvicinarsi alla Crimea, poter iniziare operazioni di ricognizione lungo le coste e distruggere navi, velivoli, sistemi di contraerea e altri obiettivi russi sensibili. Ci sono molte piattaforme petrolifere tra Odessa e la Crimea, alcune delle quali a soli 55 km dalle coste della penisola. Di recente, l'intelligence ucraina ha rilasciato un documentario riguardante le operazioni che hanno portato alla cattura di queste strutture. La prima operazione anfibia era di pura ricognizione. Gli ucraini sono sbarcati sulla piattaforma e scoperto che i russi la usavano come base di supporto per elicotteri, in quanto era stata rifornita di carburante e razzi per i velivoli. Tuttavia, l'obiettivo più importante erano i radar che i russi avevano piazzato in cima alla piattaforma per monitorare il mare. L'operazione ha avuto alcuni intoppi, infatti i jet russi che si dirigevano verso Snake Island avevano individuato movimenti e pochi minuti dopo avevano attaccato l'area. Diversi giorni più tardi, gli ucraini sono tornati per recuperare tutti i rifornimenti che avevano trovato. Mentre gli ucraini conducevano l'operazione su un'altra piattaforma sono stati individuati prima dello sbarco da un jet russo che li ha bombardati con bombe a grappolo, mentre gli ucraini aprivano il fuoco con tutto quello che avevano. Il caccia è stato abbattuto grazie a un sistema contraereo portatile. Una dopo l'altra le piattaforme sono cadute in mano ucraina e ciò ha tolto ai russi munizioni, carburante e interi sistemi radar di difesa aerea e altro equipaggiamento. I risultati di due mesi di operazioni sono difficili da sovrastimare. I russi hanno infatti perso la capacità di avvicinarsi alla regione di Odessa usando navi. Hanno perso basi per gli elicotteri. I loro jet devono evitare le zone delle piattaforme per evitare di essere bersagliati dei sistemi contraerei. Gli ucraini di contro si sono avvicinati alla costa e ha aumentato di 10 volte l'efficienza delle operazioni di ricognizione, il che ha portato alla distruzione di sistemi contraerei a Tarkankut, che di riflesso ha aperto i cieli agli attacchi misilistici che hanno colpito Sebastopoli, gli aeroporti e i centri di comando. Infine, gli ucraini hanno eliminato la minaccia di attacchi russi via mare su Odessa, la preoccupazione primaria all'inizio della guerra. Ironicamente, i primi ad attraversare il Mar Nero e a sbarcare su coste nemiche sono stati gli ucraini. E mentre l'operazione di ieri non rappresenta una minaccia diretta di perdite territoriali per i russi in Crimea è fondamentale per la raccolta di informazioni. Se gli ucraini trovano un punto sguarnito, possono infatti far sbarcare sabotatori in grado di causare enormi danni e individuare obiettivi sensibili. Il secondo obiettivo di queste operazioni è quello di causare una costante preoccupazione tra i vertici russi, che potrebbero rischierare truppe dal fronte per contenere la situazione. Cosa che sta già accadendo in quanto devono ora rimpiazzare i sistemi contraerei che sono stati distrutti per proteggere la Crimea? Le incredibilmente complesse operazioni ucraine hanno portato a impressionanti risultati strategici. Se siete contro l'invasione dell'Ucraina e volete supportare il nostro lavoro, potete fare acquisti nel nostro negozio ufficiale. Qui potete trovare numerosi prodotti riportanti simboli ucraini per mostrare il vostro supporto al canale e per l'Ucraina. Potete trovare il link in descrizione. Grazie per l'ascolto, anche per oggi è tutto e vi do appuntamento al prossimo video.